Mio padre continua a dire che è molto più difficile adesso iniziare, che noi siamo relativamente più sfortunati perché l'occasione adesso per poter si esprimere sono di meno, bisogna essere ancora più tenaci, bisogna essere ancora più portatori di un vero messaggio, di avere qualche cosa veramente da dire perché adesso oggi non si può più bleffare. La competizione è tanta e soprattutto è agguerrita. Allora tutto, lui me lo racconta, ma lo raccontano anche i suoi amici, quelli che hanno iniziato con lui, era molto più facile illudersi, essere ottimisti, sperare e credere. Adesso tutto ciò siamo tutti un po' più cinici, noi specialmente più giovani conosciamo bene come vanno le cose, poi ci sono cresciute dentro, quindi è un po' più complicato illudersi, bisogna veramente aiutarsi molto e lui non ci invida per niente. Grazie a tutti.